Io vorrei solo limitarmi a fare una cosa, a ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto. Ci sono una serie di elementi importanti dentro quello che è un progetto Interreg, parto da questo. Perciò di partecipare a questo magnifico progetto Interreg, un'immense grazie, M. Director, dell'Office del Tourisme. Sono davvero emozionata e sono felice allo stesso tempo di essere qui. Ci siamo venuti qua a fare un giro, a un ruolo, alle villi. Abbiamo detto che è proprio bello, proprio, proprio bello, possiamo fare qualcosa qua. Io non penso a fare un'attività, ci sono qualcosa, è un'importante parte del lavoro. Io credo che, tra tutte le spazze che ho stato invitato a lavorare in, durante i ultimi anni, credo che questo è uno dei più bellissimi e speciali. Innanzitutto, il saluto dalla comunità del Vigliese. È stato proprio dalla regione che è nato. Sono stati loro i primi interlocutori quando abbiamo pensato al progetto Prospettive. È un grande honneur di poter spostare un'attività in un'attività pubblica in Italia. È la prima attività che ho presentato in un'attività pubblica in Italia.